Un primo incontro dopo l'istituzione del nuovo pool della Procura contro i reati ambientali. Il dottore Franco Mazza ha incontrato questa mattina il procuratore capo Domenico ai Roma. Un incontro formale durato una mezz'ora, durante il quale il medico ambientalista ha consegnato i dossier sull'inquinamento della Valle del Sabato. Un segnale evidente e incisivo, dopo le tante battaglie portate avanti, proprio dal dottore ambientalista che da anni denuncia lo stato ambientale della Valle del Sabato. Solo l'altro giorno Mazza aveva lanciato un appello al numero uno dei PM per muoversi contro lo scempio. Il procuratore già lavora su queste tematiche perché ha costituito un pool di esperti e di magistrati che lavorano sulle tematiche ambientali forte dell'esperienza fatta a Napoli Nord. Su questo lui continuerà a lavorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La cosa importante è che cercherà di mettere in correlazione i dati sanitari con possibili fonti di inquinamento. Perché questo è l'elemento che serve per cercare di non trovare un nesso chiaro, però in qualche modo di porre rimedio alle questioni che fanno soffrire molto il territorio. Grazie. Grazie.